Le versioni sportive della Golf, la GTI, la GTD e la GTE dovevano fare il loro debutto al Salone dell'Auto di Ginevra ma come sapete questa manifestazione è stata sospesa a causa del coronavirus ma non mancheremo di mostrarvi tutte le novità che avremmo dovuto vedere a Ginevra grazie anche al nostro sito www.showcar.news e i nostri video, i nostri contenuti e soprattutto gli articoli di approfondimenti Iniziamo questa carrellata con le Golf e infatti siamo qua per conoscere dal vivo ma soprattutto nel dettaglio le versioni sportive GTI, GTD e GTE Iniziamo con la sportiva per eccellenza ovvero la GTI La Golf GTI giunge alla sua ottava generazione proseguendo una storia che dura da ben 44 anni un'auto che oramai è diventato un classico grazie al suo equilibrio tra sportività ed eleganza e un prezzo che rimane accessibile Il pacchetto stilistico mantiene i dettagli storici della Golf e GTI ovvero i paraurti sportivi, i diffusori posteriori con due scarichi cromati ai lati e la sottile linea rossa che prosegue dai fanali alla calandra Inedita anche la firma luminosa che si estende fino al logo centrale La griglia con le trama nido d'ape e i cerchi di maggiori dimensioni, si parte da 18 pollici sono le novità che troviamo su Golf GTI ma anche sulle sorelle GTD e GTE con i fendi nebbia che sono a 5 punti luce già visti su altre vetture All'interno non mancano i rivestimenti in tessuto scozzesi di serie oltre a una personalizzazione che interessa aspetti secondari come ad esempio l'illuminazione interna a LED e la grafica della strumentazione digitale Digital Cockpit con una sezione esclusiva con il contagiri al centro nonché del sistema di infotainment con schermo touch al centro della plancia Sotto il cofano della nuova Golf GTI pulsa il nuovo motore da 2 litri TSI Turbo a 4 cilindri a benzina da 245 CV e 370 Nm di coppia abbinato ad un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti con selettore compatto Shift by Wire il pacchetto estetico della Golf GTI viene ripreso quasi totalmente nella versione a gasolio Golf GTI rispetto alla sorella a benzina il doppio scarico è unito e alla sinistra del paraurti mentre la linea rossa sulla calandra di fari anteriore sulla griglia diventa grigia con una differente personalizzazione degli interni dove rimangono i rivestimenti con motivo scozzese anche in questo caso troviamo nella griglia la firma luminosa a diodi tanta potenza anche qui sotto il cofano batte infatti il motore da 2 litri TDI Turbo Diesel da 4 cilindri da 200 CV e 400 Nm di coppia massima abbinato anch'esso a un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti Volkswagen descrive questa versione come la Golf GTI più pulita di sempre grazie all'adozione, comune anche con le altre Golf TDI di un sistema SCR con doppie iniezioni di additivo ad urea adi blue per ridurre le emissioni di NOx infine debutta anche la versione GTE ovvero la versione sportiva ibrida plug-in di cui già conoscevamo alcuni dettagli durante il debutto di Golf 8 lo scorso anno l'assetto in questo caso è quello delle Golf tradizionali mentre il pacchetto estetico viene ricalcato dalle sorelle GTI e GTD con la differenza che la linea rossa sulla calandra e sui proiettori diventa blu al pari della personalizzazione interna, illuminazione della grafica, del display e rivestimento del tessuto in scozzese il powertrain del Golf GTI è composto da un motore a benzina da 1,4 litri turbo da 150 CV unito a un motore elettrico da 115 CV in cui è integrato il cambio dopo frizione a 6 rapporti la potenza complessiva è di 245 CV mentre la coppia rimane di 400 Nm la stessa in pratica di Golf GTD in questo caso abbiamo la possibilità di viaggiare anche nella sola modalità elettrica fino a 130 km all'ora per un massimo di circa 60 km grazie al pacco di batterie da 13 kWh ricaricabile da una presa di corrente domestica oppure se preferite da colonina pubblica dunque tre allestimenti davvero molto attesi per quanto riguarda la nuova Golf che arriveranno nelle concessionarie subito dopo il lancio della Berlinetta per tutti gli approfondimenti vi rimando all'articolo sul nostro sito www.shockcar.news vi invito anche a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti di Shock Car l'appuntamento è anche su Shock Car TV e sui nostri profili social Instagram o Facebook tra l'altro potete rimanere in contatto con noi attraverso il numero di SMS o Whatsapp e con questo è tutto, alla prossima!